Lorella Boccia e Niccolò Presta annunciano il matrimonio Lorella Boccia matrimonio con Niccolò Presta. Lorella Boccia e Niccolò Presta annunciano le nozze. Ho detto si scrive Lorella Boccia sul suo profilo Instagram circa due ore fa. In quel momento il cuore batteva all'impazzata e la mia mente ha smesso di pensare e ero svuotata, incredula, in preda quasi ad un attacco di panico ma immensamente felice. . Grazie di esistere vita mie. Un post pieno zeppo di emozioni quello della ex ballerina di Amici 2012-2013 di Maria De Filippi. . Dunque, la ballerina e attrice Boccia, incredula la proposta di matrimonio improvvisa di Niccolò Presta, sotto attacco di panico e accetta di buon grado con volare a nozze Presta e lunga R. . Lorella Boccia matrimonio sotto l'albero di Natale. . Lorella Boccia matrimonio con la proposta da Cardiopalm. . Le vacanze di Natale a Malindi, Kenya, per Lorella e Niccolò Presta sono valse ad una proposta di matrimonio in piena regola. . . Dunque, sotto l'albero di Natale 2017 la ex ballerina di Amici vede materializzarsi il proprio desiderio custodito nel suo scrigno, il matrimonio con Niccolò. . Dopo il successo, la ballerina partenopea Lorella pensa a mettere su famiglia. . Niccolò Presta matrimonio con Lorella Boccia. . Replica così Niccolò al post della sua futura sposa Lorella, o moglie, o come dir si voglia, scrive, ha detto sì. . . Ti amo immensamente chioccio la boccia Lorella. Niccolò Presta, produce reagente di successo, le ha chiesto la mano a pochi giorni dalla fine dell'anno 2017. . . Un anno che sicuramente Lorella e Niccolò ricorderanno per sempre. . . Secondo alcuni gossip, Niccolò Presta, dopo le parole d'amore per la sua compagna, si sarebbe fatto sciogliere da un emozionante abbraccio di Lorella. . . Dopo l'annuncio romantico circa le nozze, si attende la data del matrimonio che ovviamente per l'imprevedibilità del lieto evento non è ancora stata resa nota. . . . Il 2018 potrebbe dunque vedere sposi Lorella Boccia e Niccolò Presta. . . . . .